La Proloco di Buccino Volcei organizza con il patrocino del Comune e con la collaborazione di enti, associazioni e diverse attività commerciali l'iniziativa Una Notte al Museo, che prevede l'apertura straordinaria gratuita fino alle ore 24 del Museo Nazionale Archeologico Volcei Marcello Gigante nella giornata del 2 settembre. Nell'affascinante chiostro degli Eremitali, l'evento, inserito nell'iniziativa legata alle domeniche gratis nei musei italiani, promuove la visita guidata al museo a partire dalle ore 20 e 30 con cadenza ogni 60 minuti. La serata inoltre sarà arricchita dall'alternarsi di momenti musicali intervallati da degustazioni della gastronomia locale in un rapporto di crescita e promozione territoriale che prevede il coinvolgimento sinergico sia della cittadinanza che dell'imprenditoria locale.